Grazie Presidente, grazie al relatore per il lavoro svolto. Finalmente, è il caso di dirlo, dopo anni di discussioni e rinvie e dopo aver approvato, lo ricordiamo tutti, a maggio, non senza discussioni e resistenze, il regolamento sul monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle emissioni di CO2, di consumo, di carburante e dei mezzi pesanti nuovi, siamo ora impegnati a fissare i limiti sulle emissioni di tali veicoli. Non dimentichiamo che queste emissioni rappresentano oggi il 6% del totale delle emissioni e sono previste in mancanza di interventi in aumento fino addirittura al 10% al 2030. Quindi questa è una proposta fondamentale per il rispetto degli accordi di Parigi e non dimentichiamo anche per garantire a oltre mezzo milione di piccole e medie imprese europee un grande risparmio di carburante, un grande risparmio di carburante che significa il carburante incide per un quarto dei costi operativi. Quindi per noi è prioritario approvare in tempi rapidi la proposta di regolamento. Bene quindi la procedura accelerata per iniziare un percorso. Partiamo, noi siamo per partire dunque, siamo consapevoli che tale percorso avrà comunque un momento di verifica fondamentale nel 2022, come è previsto dall'articolo 13. Riteniamo perciò che quella della Commissione sia nel complesso una buona proposta, una proposta equilibrata, una proposta ragionevole. Giusta inoltre è l'indicazione di due step, il primo al 2025 vincolante e il secondo al 2030 soggetto a verifica. Noi comunque presenteremo degli emendamenti per rendere, se possibile, la proposta più ambiziosa sia in merito ai target, 20% al 2025 e 35 al 2030, emendamenti per fare chiarezza sulla definizione di veicolo professionale, sul ruolo degli autobus elettrici urbani e soprattutto insistiamo su questo punto sui contenuti, per chiarire meglio, per rafforzare gli obiettivi della verifica e della revisione al 2022, che è fondamentale nel percorso, anche in relazione agli incentivi previsti col sistema dei supercrediti. Ripeto però, per noi comunque è prioritario oggi avere un regolamento. Vincere ogni tentativo di rimandare ancora ogni decisione, vanno ricercate perciò le convergenze necessarie, le flessibilità necessarie per cogliere tale obiettivo. La proposta della Commissione, ripeto, è un buon equilibrio. Dobbiamo agire per mantenere la nostra leadership industriale europea rispetto a Cina, Giappone e Stati Uniti che hanno già fissato dei limiti alle emissioni. Sostenere, come si diceva, la ricerca e l'innovazione nel settore creerà nuova e buona occupazione in Europa.